Salve a tutti, io sono TheLongamer e bentornati su Barn Finders. Oggi troviamo un UFO schiantato e dovremo liberare un povero alieno catturato dall'FBI. Poi partecipiamo alla guerra delle aste dove gareggerò per comprare i magazzini migliori e potrò vincere addirittura una preziosa auto. Ma ovviamente riesco a baggare tutto e succedono cose brutte. Buona visione! Signori, contro ogni aspettativa gli affari del negozio stanno andando alla grande e addirittura lo zio Franco non si è fatto arrestare e non è stato rapito dagli alieni. Oh, per me è una grande soddisfazione, gente. Nel frattempo ho anche cambiato leggermente l'estetica del negozio, praticamente la struttura in legno l'ho fatta nera perché rossa era un pugno nell'occhio inguardabile. E sapete molto bene che nella corsa puntata abbiamo anche modernizzato il nostro negozio, adesso ha un aspetto decisamente molto più professionale. La cosa triste è che purtroppo non posso cambiare il bancone. Ma, ma che cocchio! Ma è una roba orribile, ti prendi il titano anche solo a guardarlo. Sviluppatori, avanti, vi siete persi proprio sul bancone. Allora, vediamo di rimboccarci le maniche. Negli commenti dello scorso episodio mi avete detto che per bere il liquore con l'inventario devo parlare con questo tizio. È vero! Ah, mio papà ha sempre sognato di fare i soldi con questo banco dei pegni! Ok, ancora lo zio Franco che grufola con i maia... No, no. Stavolta le cose stanno andando in maniera differente? E quello chi è? Buongiorno, signore! No, non guardi lo zio Franco che è traumatizzante già di suo. Non mi dire che quello è il direttore dell'amico? Cosa sta accadendo? Oh, maronne! Sì, questa è chiaramente una pubblicità dell'amico. Cos'è sta roba? America, come ti sei ridotta male? Ok, mi è crashato tutto, scusate, vado a spegnere il computer. Sono gli anni 90 e i computer crashavano molto più facilmente. Finalmente abbiamo capito come bere quel maledetto liquore. Mi avete fatto finire in una modalità parallela, gente? Ditemi di no. Ok, sembra tutto normale per adesso. Ho paura di scoprire cosa sia cambiato. Ah, hai perso i sensi? Ah, non berrò mai più insieme a te. Dai, un'occhiata al computer, nipote. Zio, datti una calmata. Non urlare così di primo mattino che c'ho un mal di testo assurdo. Ok, il tizio dell'American Dream è sparito. Che cosa buona e tanto giusta? Perché veniva sempre a farmi la pipina nella mia stanza. E porca di quelli per porca. Io non ho neanche un gabinetto, quindi non so dove la facesse. Zio, cosa ci fai qua? Porco cane, datti da fare. Ah, invia l'oggetto dell'incarico per e-mail a questi computer, zio. Santo cielo, imparo un attimino di informatica. Io volevo aprire il negozio per fare un po' di dindini. Porco cane, non funziona nulla. Premi click per resettare il computer. Ok, dimmi che si è resettato. Perfetto. Ah, ci ha aperto l'accesso al DLC. Beh, per adesso vediamo di finire, ovviamente, la trama principale del gioco. Anzi, ora che ci penso bene, dobbiamo anche completare il catalogo. Per adesso siamo appena al 32.8%. Vediamo un po'. Se sblocchiamo alcuni elementi del catalogo, molto probabilmente dovrei ottenere la nuova skin per il nostro veicolo. Oh, sempre meglio di quella con la faccia dello zio, che mi ha messo un'inquietudine veramente incredibile. E voilà! Perfetto, abbiamo sbloccato la skin invisibile. Zio, quando ti sei teletrasportato qua dietro? Aspetta un attimo, non è che adesso ci sono due zii, no? Ah no, ok. Per un secondo ho temuto il peggio. Già uno zio è ben più che sufficiente. Tornando a noi, questa è la skin... Oh, è una skin molto militare. Ah, direi che cosa buona e giusta, perché questo oggi, in teoria, andremo in una struttura governativa, da quello che ho capito. Pertanto, è bene non farci individuare. Zio, vai in bagno? Che puzzi di vomito? Che metà basta! Nel frattempo abbiamo recuperato altre parti da montare, ma ancora non abbiamo nulla di completo. Aggiungiamo questo al circo delle rane. Ci mancano ancora due pezzi e in teoria lo potremo vendere. Spero per uno sproposito. E qualcuno nei commenti pensava che potessimo già assemblare... Zio, quando è che ti sei teletrasportato? Vabbè, facciamo finta di nulla. Dicevo, nei commenti qualcuno pensava che potessimo già assemblare completamente la telecamera Bobek. Purtroppo, da quello che vedo, ci mancano ancora forse una o due parti. E non mi metto neanche ad assemblare la tuta quella da survivalista, perché lì serviranno 8 miliardi di pezzi. E voilà! Attaccalo! Ok, ora che ci penso bene, possiamo anche vedere di mettere qualche bel poster dello zio. Guardatelo lui! È un ometto molto sexy! Ti viene voglia di comprarti tutto il negozio, santo c'è... Ora è qua. Appena mi girerò sparirà e si teletrasporterà da qualche altra parte. E siccome non ho abbastanza incubi, come dicevo, mettiamo il resto dei poster dello zio direttamente all'interno della mia camera da letto. Questo sì che ti fa salire i peggioi incubi durante la notte, Oh porco cane, questa è nuova anche per me. A quanto pare lo zio è stato anche ranger e ha gestito un campo estivo. I bambini saranno tutti morti male o saranno diventati alcolizzati. Ma bando alle ciance, prima di partire all'avventura, direi di provare a vendere un altro po' di merce ai nostri clienti. E il bello è che gli oggetti di valore sono ancora qua, come ad esempio la moneta antica, la maschera antica, curiosamente anche i cerchioni, nessuno se li ha comprati. Buongiorno, buon uomo, lei vuole un tanicozzo, un marone. Avanti, lei uno metto con un grande e grosso portafoglio. Perfetto, sono riuscito a truffarlo alla grande e abbiamo aumentato il prezzo di 77 dollari. Non so cosa se ne faccia di quel tanicozzo e non voglio neanche scoprirlo. Buongiorno, signorina. Ah, la signorina vuole il liuto che le ho già lautamente aumentato di prezzo. 29 dollari in più della serie meglio che nulla. E, oh, signor alieno, buongiorno, cosa vuole vendermi di bello? Il vaso mar nero. Aspetta, 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 vediamo di ottenere un prezzo di favore. Se riesco ad abbassarlo abbastanza, dovrei riuscire a guadagnarci un bel po' di danaro. E lui dice, no, 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 sono un alieno ma non sono scemo. Perfetto, 112 dollari spesi bene. Zio, potresti anche darmi una mano a trasportare la merce di valore? No, forse è meglio di no, che è talmente tanto imbriaco che la fa cadere a terra. Arriva, un attimo, sono subito da voi, perfetto. Nel frattempo l'alieno, dopo aver venduto la merce e ottenuto un po' di danaro, lo rispende subito al negozio. Lei non è un alieno molto furbo. E vediamo se ha potuto ottenere un prezzo maggiorato. Perfetto, ci abbiamo guadagnato praticamente 363 dollari. Sì, sì, se la porti via, signorina, lei vuole una macchina da scrivere. Ma non era un alfabeta, scusi, eh, non per offendere, ma vabbè, dettagli. Da queste parti non è che la gente sappia né leggere né scrivere di solito, ma lei a quanto pare. È l'eccezione che conferma la regola. Ah, ci vuole uccidere il marito. Ah, nessun problema, sì, sì, è un ottimo oggetto contundente. Oh, finalmente qualcuno che vuole comprare il mega tanicozzo da survivalista. A questa tizia di solito riesco sempre a fare dei prezzi veramente assurdi. Vediamo se siamo fortunati, perfetto, l'abbiamo alzato di 48 dollari. Ma è talmente scema che dovrei riuscire a venderglielo per uno sproposito. Ok, proviamo a contrattare di nuovo. Uh, è rischioso, uh, è rischioso. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta incredibile. Gente, gliel'abbiamo alzato di 216 dollari. Si porti via il big tanicozzo, signore, se lo sniffi tutto. Eh, guarda, te lo vendo così, tanto per guadagnarci 3 dollari in più. A quanto pare la signora ha provato a percuotere il marito con la macchina da scrivere. Ma il marito è più forzuto e adesso sta cercando di uccidere lei. Quindi si è comprata il caschetto per proteggere il cranio. Signora, a meno che non mi compra la monetina. No, un braccio zombie. Ah, vuole fingere la propria morte, mi pare un'ottima idea. Ah, senta, se lo porti via tanti saluti, chiaramente ne ha più bisogno lei. Guardi che una Nespresso originale la pagava molto di meno, eh, ma vabbè, dettagli. Oh, ho potuto contrattare ben tre volte. Gliel'ho alzata di 56 dollari. Perfetto, abbiamo praticamente 4.000 dollari. Allora, datemi un secondo perché voglio scoprire quale sia effettivamente il nostro prossimo incarico. Cappello con portabirra. Aiuto, appunto, aggiornamento Barn Hub. Hmm, qua sta succedendo qualcosa di strano. Stavo lavorando lì da qualche parte, così gli ho fatto. Puoi prendere bar a trovare il vecchio cappello con portabirra e mandarmelo? Come i vecchi tempi. Hmm, questo messaggio è molto, ma molto strano. Tuttavia, per un cappello portabirra ci daranno 715 dollari. Ok, vediamo un po' dove dobbiamo andare di bello. Sembra che dobbiamo raggiungere la zona dello schianto. Tuttavia c'è un errore nei dati. Aspetta un attimo. Mi sa che è lì che si è schiantato l'UFO che abbiamo visto allo scorso episodio. Era partito bene e poi è precipitato male male. Allora, devo spendere 200 dollari per il carburante. Però dai, direi che possiamo partire all'avventura assieme allo zio Franco. Che quest'oggi lo vedo bello carico, eh. Mi sa che ha smesso di bere la benzina ed è passato agli alcolici normali una volta tanto. Oh, perfetto a quanto pare l'agente-agente è già arrivato sul posto. E quello là dietro è chiaramente un UFO precipitato male male. Zio, fai attenzione che ti scambiano per un alieno. Zona dello schianto. Una situazione complessa. Wow, si è anche scatenato. Un brutterrimo temporale. Buonasera agente, salve, scusi. C'è laggiù il mio UFO. Ah, devo correre in bagno. Zio, vai a cagare nel vero senso della parola. Circolare, non c'è niente da vedere qui. Oddio, là dietro c'è qualcosa da vedere. Ah, uno tsunami mi sta arrivando nelle mutande. E lo zio è sparito? Ok, eccolo laggiù. E in parte al gabinetto. Agente, io vorrei palpeggiare il mio UFO, scusi. Ieri sera ero imbriaco e l'ho schiantato male male. Vi teniamo d'occhio, cacciatori di fienili. Oh, dannazione, non ci vogliono far passare. Allora, fammi accendere mezza torcia che non si vede nulla. Ah, sembra che qua sotto io non possa passare. Santo cielo, mi sono dovuto avventurare nei boschi e all'improvviso ho trovato un punto in cui possiamo effettivamente scavare. Ti prego dimmi che c'è merce di valore. Uila! Cos'è questo? Il nitro Hercules? Si usa soprattutto per l'inseminazione artificiale, non volevo saperlo. L'immagazzinamento di campioni biologici e il trasporto di carburante. Ok, zio, vieni a prendere il... Ah, che schifo, i campioni di materiali biologici, mob, dettagli. Zio, tutto bene? Sei riuscito a fare la cacca? Ho sgommato i pantaloni, mai più kebab per me. Zio, non era kebab quello, eh. Ho aperto questo bagno, non si sa mai. Ok, grazie. Zio, hai un po' di mosche che ti ronzano attorno, mob, dettagli. Ah, io non entro in un bagno del genere. Vediamo un po'. Ah, va bene, lì, questo qui è bloccato. Zio, apri la porta, non sta a far scherzi? Ah, ho paura di toccare qualunque cosa. Oddio, mi sta salendo uno schifume assurdo. È la prima volta che vedo uno con la latrina, più addirittura il gabinetto. Oh, veramente completo. Oh, ho toccato qualcosa, che succede? Zio, zio, la porta è bloccata. Cosa sta accadendo? Ah, gente, mi sto chiaramente muovendo, guardate lì fuori. Ah, aiuto. Oh no, oh no. Sento rumori veramente brutti. Oh mio Dio, questo non è un gabinetto normale. È un ascensore segreto, non ci credo mai nella vita. E mi sto portando al primo piano. Cos'è appena accaduto? Oh, porca di quelli per porca. Ah, questa non me l'aspettavo. Siamo finiti in una base segreta dell'amico? Ah, abbiamo visite. Un caloroso benvenuto al laboratorio 467 dell'amico. Ok. Oh, c'è anche un alieno. Aiutatemi, cacciatori di fienili. Siete la mia unica speranza. Ah, scusi, principessa Leila dei poveri. Lei c'ha le chiappe in testa. Mi tengono nel seminterrato. Tre interruttori. Ok, signor Steve Gray, non si preoccupi. È un piacevole soggiorno. Ok, ha probabilmente hackerato il sistema interno dell'amico. Dobbiamo salvare assolutamente il povero alieno. Ma, scusate l'ignoranza. Dove poi sono finito? Siamo sopra il bosco, aspetta. Laggiù vedo il luogo dello schianto. Vedete che c'è l'ufo? Ok, il mistero si infittisce. Ero venuto qua per un cappello portabirra. E alla fine dobbiamo salvare gli alieni. Allora, possiamo interagire con questa porta. Ma prima dobbiamo scassinare la serratura. Ok, è stato abbastanza semplice. Et voilà! Ma per favore, le serrature dell'amico mi fanno un baffo. E all'interno abbiamo trovato un interruttore che lampeggia. In effetti, se notate bene, c'è una lunga serie di cavi che raggiunge i piani superiori. Ok, perfetto. Cosa ho fatto? Dovrebbe funzionare! No! Mi sa che dobbiamo tirare più interruttori per riuscire a salvare il nostro amico da un altro pianeta. Oh, se siamo fortunati all'interno di una base dell'amico dovremmo trovare un sacco di merce di alto valore. Aspetta, aspetta, qui abbiamo trovato un kit di pronto soccorso. Allora, tira la leva, abbiamo disattivato la barriera. Pronto soccorso, pronto all'uso. La plastica in polipropilene è particolarmente resistente e infrangibile. In teoria possiamo utilizzare nuovamente l'ascensore per andare ai piani superiori. Perfetto, eccoci arrivati al primo piano. Qui abbiamo una barriera che possiamo disattivare. Disattivare, perfetto. Facciamo attenzione a non rimanere bloccati all'interno. Abbiamo trovato il bagno. Aspetta che gli rubo il sapone così quando esci dal bagno non ti può più lavare le mani e sei tutto sporco di schifi. Perfetto, e per il resto possiamo distruggere per recuperare materie prime. Buongiorno, abbiamo trovato il ciclone rosso. Adatta per moquette, pavimentazioni dure, scale e tappezzeria. Include beccuccio per fodere, fessure e turbospazzola. Oh, un aspirapolvere un attimino più serio rispetto a quelli che abbiamo già visto in passato. Aspetta un attimo, da quest'altra parte la porta è bloccata quindi non possiamo passare. E possiamo tranquillamente passare attraverso il condotto. Buon salve, siamo arrivati dall'altra parte. Tutto questo per recuperare... Ah, un materasso sporco, una pagina di un fumetto e tutta merce di scarso valore. Oh, almeno queste prigioni sono un attimino tenuto meglio rispetto a tanti altri luoghi. Perfetto, non abbiamo trovato altri interruttori. Tira la leva, ye ye ye. E, aspetta un attimo, lo vedete? C'è una sorta di busto olografico, una mia impressione. In effetti sì, un fantastico ologramma 3D. Posizionalo sulla scrivania o vicino al letto per perderti nelle sue meravigliose illusioni ottiche. Ok, zio! Non so se riesce a intravederlo, ma cerca di non sbatterci il piede. Per il resto sembra che non ci sia altro. Vediamo un po'. Uh, buongiorno. Possiamo vedere di vendere anche questa merce. Magari troviamo dei documenti governativi di altissimo valore. Divento il Wikileaks degli alieni mob, dettagli. Aspetta un secondo, abbiamo trovato la maniglia della rinoceronte di ferro! Finalmente la possiamo assemblare con la maledetta cassaforte. Una maniglia di metallo che può essere utilizzata da ogni angolo, prodotta tramite processo di pressofusione in lega, una tecnica molto moderna. Yeeey! Finalmente la possiamo assemblare qualcosa. Ottimo, zio! Vieni a prendere anche quello. E all'interno dei cassetti non ho trovato praticamente nulla. Aspetta, aspettacolo di sfruggere praticamente tutto. Aha! Ecco la leva che stavo cercando e... Ha attivato qualcosa? Non so cosa abbia attivato in effetti, ma almeno possiamo recuperare un po' di materie prime. Aha! Ho capito a cosa serve la leva. Come potete notare adesso, il ponte non esiste. Se io ritiro la leva, voilà! Questo ci permetterà di andare tranquillamente dall'altra parte. Perfetto, teniamo gli occhi aperti. Da quest'altra parte ci sono solo materie prime. Tuttavia c'è una scala che ci conduce al piano superiore. Aspetta che non lascio il risorso indietro. Una scatola degli A3. Sì, niente di che... Ma dai, com'è possibile che il governo non abbia nascosto nulla all'inter... Aha! Ok, ho parlato troppo presto, perfetto. Allora, prima di andare al secondo piano, fatemi dare un'occhiata anche all'interno di questa stanza. C'è un alieno che balla. Un alieno molto sexy che è sparito. Bastardo, non potevi salvare il tuo collega. Oh, abbiamo trovato... Signori, un'altra parte del circo delle rane. Zippo sposò la sua prima moglie, Ming Curtin, anch'essa acrobata nel 1917, dopo che quest'ultima aveva lasciato il primo marito. Grazie di questa preziosissima informazione, Onno. Un altro Moonshine. Ok, trinca tutto. Tanto ormai abbiamo avuto le peggio visioni. Mi domando cosa ci aspetta in questo episodio. Ci sono degli alieni che stanno... Non lo so, questi sono imbriachi marci. Ah! Oh mio Dio! Questa è la scena di Alien al contrario. Non ci credo mai nella vita. Al posto dello xenomorfo gli è uscita una bambolina. Oh mio Dio! Non bevete alcolici strani, gente, se no vi escono le bamboline dalla panza. Ma vabbè, dettagli. E se ho visto bene. Buongiorno. Abbiamo trovato il telaio del raggio letale. Che buia è? Ah, probabilmente fa parte di un oggetto che dobbiamo assemblare. Un nucleo laser a frequenza singola e bassa dispersione energetica che consente di ottimizzare i costi e aumentare la durata. Non so chi lo comprerà una volta che avremo finito di assemblarlo, ma è una città strana. Abbiamo anche il poster dell'amico. Ma che cosa bella. A quest'altra parte sembrano i progetti di qualche strana arma. Oh! Io la vorrei una strana arma aliena con cui far fuori lo zio. Non sarebbe male. Vediamo un po'. Un libro. Aspetta, aspetta. Il pad Lilica. È orribile. Questo datapad consente agli utenti dei registratori di dati e il mule di Lilica di configurare le loro unità e di scaricare i dati, nonché di visualizzare i risultati di registrazione in tempo reale. Non ci ho capito nulla della serie Portavia. A qualcuno lo vendiamo? Ok, abbiamo... No, aspetta, scusi, buon uomo. Ah, ok, sono riuscito a prendere al volo la calcolatrice. Da quest'altra parte invece abbiamo altri libri. Ah, ma nulla di che. Oh! C'è della merce anche là sopra. Aspetta, aspetta un attimo. Possiamo tirare questa leva. Et voilà! Ottimo, abbiamo recuperato un potenziatore H2O. Questi li vendiamo sempre ad alto prezzo. È una tagliatrice della Nikita che avevamo anche già trovato nelle scorse puntate. E qua dentro solamente delle materie prime. E mi sono appena accorto di aver recuperato una keycard sopra questo tavolo. Pertanto ci servirà sicuramente molto presto. Allora, vediamo di salire al piano superiore. Un altro poster dell'amico. Tanti poster dell'amico. Un'altra tagliatrice Nikita che possiamo portare via. Ok, per adesso tutto tranquillo. Incredibile questa tecnologia futuristica, ma vabbè dettagli. Ah, possiamo inserire qua la keycard che abbiamo appena trovato. E tirare anche la prossima leva. Ne manca uno! Piano piano! Sto iniziando a sentire! Non voglio sapere cosa sente. Buon alieno, ma vabbè dettagli. Da quest'altra parte abbiamo un altro Nitro Hercules. Non voglio sapere cosa ci sia all'interno e cosa abbiano fatto all'alieno. Ah, che schifo. Perfetto. Torniamo al piano di sotto e vediamo di raggiungere il secondo ed ultimo piano. Dove, ai ai ai, sembra che qualcuno abbia avuto dei problemi energetici da queste parti. Allora, da quest'altra parte abbiamo... Uh, la saletta relax? Ma che bel posticino in effetti con... Aspetta, aspetta, aspetta. Questa la possiamo portare via. È un distributore. Kawa prepara otto tipi diversi di caffè di alta qualità. Può macinare fino a 500.000 volte con la lama originale dell'amico. Sì, ma lo dobbiamo decisamente riparare perché è pesantemente danneggiato. Ok, vediamo quindi di svaliggiare anche la saletta relax di questi barboni. Non hanno praticamente lasciato nulla di valore. Uh, aspetta, aspetta, aspetta. C'è un microonde. Perfetto, porta via. Questo almeno lo possiamo rivendere ai barbò. Ai nostri gentilissimi clienti. Perfetto. All'interno del frigo è pieno zeppo di bibite. Ma non c'è neanche una birretta a pagarla. Quella bibita, peraltro, levitava. Ma, vabbè, dettagli. Lo zio sarà molto triste, eh. Perché un paio di birrette lui se le beve. Oh, il lato positivo è che dovremmo aver recuperato quasi tutti gli oggetti. Tuttavia non posso ancora andare dall'altra parte. Potrei passare sopra il tavolo, ma non arriverei molto distante. Aspetta un attimo. C'è una scaletta che mi porta al piano superiore. Vediamo un po' se c'è modo di staccare la corrente. In effetti sì. Ah, piove dentro. Ovviamente una struttura dell'amico. Perfetto, stacca la corrente. E ok, adesso possiamo scendere in tutta tranquillità. Vediamo se c'è qualche altro oggetto nascosto da qualche parte. No, purtroppo nulla di nascosto. Allora, vendiamo i giornali. Qua abbiamo dei documenti governativi. E abbiamo trovato il buzzer intelligente. Aspetta, ma è un televisore da riparare. Con questa tv c'è qualcosa per intrattenere tutta la famiglia American. Abbuffatevi di tutti gli spettacoli di cui tutti parlano su Cowflix. E beh, giustamente questi hanno Cowflix. Perché è tutta gente che vive in un ambiente molto rurale. Tira l'ultima leva. In teoria dovremmo aver fatto... Ah! Signore, ho fatto la cosa giusta? Oppure l'ho ucciso male male? Immagino che non lo sapremo mai. Presto! Nel semi-terrato! Sento oduri di libertà! Oppure sei cagato addosso? Ma ovvio dettagli. Ok, tira la leva. Qui abbiamo un altro potenziatore H2O. Che mi porto via volentieri. Che possiamo vendere ad un elevato prezzo. Ci sono ancora degli oggetti in giro. Probabilmente si troveranno. Ai piani inferiori. I casi della vita. Ho sbagliato piano. Sono andato al primo invece che al piano terra. Ma guardate un po'. C'è la cartigenica! Recuperala assolutamente. Aspetta, aspetta un secondo. Ah, possiamo anche cadere sui fili qua sotto. Beh! Ho sbagliato completamente salto. Buongiorno. Questa zona è interdetta. Accesso consentito solo allo staff dell'amico. Sì, mi dia un attimo. Eh, devo tornare un attimo di sopra. Ok, stavolta cerchiamo di precipitare più correttamente. E ora che siamo sopra i cavi... Ah, ah! C'era un ulteriore poster collezionabile. Che parla di alcolici, ovviamente. Da quest'altra parte... Non mi sembra che ci sia nulla di valore. No, è praticamente tutta immondizia. Cioè, ho rischiato la mia vita per nulla. Ma... Ma mi prendi in giro? Ma bando alle ciance e vediamo di raggiungere il nostro amichevole alieno di quartiere. Ah, nulla di valore. Tutti oggetti che non ci guadagno popo un cavolo di nulla. Ma abbe dettagli. Signora alieno, buongiorno. Che piacere incontrarla di persona. Come va? Tutto bene? Ah, lui l'elmetto delle feste. Quello da birra, porco cane. Allora, un secondo che vedo di distruggere tutto. Dobbiamo trovare un modo per salvarlo. Abbiamo trovato un maronne. Cos'è? Un miglioramento della parete? No, no. Quello è un peggioramento della parete. Aspetta un attimo, c'è qualcosa nascosto qua dietro. Uh! Un mega tanicozzo. Il serbatoio. Mico! È dotato di dispositivo di protezione da tracimazione. Ed è conforme. È molto pratico. Esclusivamente per uso verticale. Ok, vabbè. Serve a contenere del gas. Magari non buttiamo la terra che non mi fido troppo della resistenza dei prodotti dell'amico. Allora, dobbiamo trovare un modo per salvare l'alieno. Usa tre interruttori nel giusto ordine. E come faccio a sapere? Aspetta, c'è il rosso. Controlla i cavi per scoprire l'ordine corretto. E sono tipo leggermente dal tonico. E tutti i cavi sono curiosamente rossi. Cos'è? Come faccio a saperlo? Allora, tiriamo un po' di leve a caso. Probabilmente accadrà qualcosa, vediamo un po'. Oh, oh, ok. Riprova. Sì, ma state buoni. Aspetta, aspetta, aspetta. Due dei cinque interruttori sono finti. Ok, buono sapersi. Almeno adesso i cavi sono colorati. Aspetta un attimo. Questa sedia la possiamo vendere per 172 miseri dollari. Questa poltrona da barbiere ha un poggiatesta estraibile e regolabile. Uno schienale a regolazione pneumatica e una base molto robusta. Vabbè, chiamiamolo zio per prendersela. Allora, aspetta che intanto tiro anche le altre leve. E se siamo fortunati, ora tutti i cavi dovrebbero essere colorati. Elaborazione dei dati per progetti futuri. Allora, gli unici cavi che si illuminano sono quello azzurro, quello giallo e quello viola. Quindi gli altri dovrebbero essere effettivamente finti. Questo dovrebbe essere l'azzurro e questo il giallo. Ok, tiriamolo in ordine sparso. Non lo so nemmeno io. Un marone, ok, l'ho già fatto boiate. Aspetta un attimo, adesso si è illuminato anche il cavo bianco. Ah, quindi quello viola era fasullo, quello blu era fasullo. Quindi deve essere così, così e così. Yeeey, perfetto. Fusione mentale, errore dati. Amico alieno, ti ho salvato. Marone, quanto si brutto. Grazie per avermi salvato la pelle. Per favore, apri la mente. No, 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 no. C'era una volta la festa più incredibile dell'universo. Come una festa? Tutto questo per una festa? Ma il ladro ha rubato il nostro delizioso liquore. Lo sapevo che c'erano di mezzo gli alcolici anche stavolta. Ora siamo molto, molto tristi. Tutto sto casino per gli alcolici, davvero. Vai alla base, lunare, e prendi un po' di liquore. Scusate, come ci arrivo sulla luna io di grazia. Mi prendete in giro? Aiutateci, cacciatori di finili. Solo voi potete salvare la festa. Ma come? Quindi gli alcolici erano fatti per indurmi a capire dove fosse il problema. Oh mio Dio, ecco, era una sorta di fusione mentale. Facciamo finta di nulla che è meglio e il lato positivo è che abbiamo trovato il Fusion 6. Oh mio Dio. Questo casco da birra contiene 6 bevande e ti consente di bere senza mani. Taglia unica, non intende fornire alcuna protezione o sicurezza. Oh mio Dio. Ho trovato gli alieni alcolizzati. Lo zio andrà molto d'accordo con questa specie aliena, questo è poco ma sicuro. Ah, ho già toccato il carico trovato. Forza, nipote, dobbiamo andare al festino con gli alieni. Zio, porca di quelli per porca, vengo su e ti legno male male. Anzi, ti faccio fare una bella disintossicazione dall'alcol. E guarda, guarda, a quanto pare avevo lasciato indietro. Un tablet, ti prego dimmi che era l'ultimo oggetto che ci mancava e la risposta è... Ah, tutti gli oggetti raccolti, andiamocene di qua. Allora, stavo per fare una boiata delle mie. Mi sono accorto adesso che l'ascensore è rimasto al primo piano. Ma non è che io rischio di scivolare di sotto, vero? Oh, maronne! Oh, non dovevo farlo! Mi sono spaventato ma proprio una cifra. Ok, magari la prossima volta utilizziamo l'ascensore. Ah, sì, al di fuori, eccolo qua che c'è l'interruttore. Tradotto benissimo, eh, gioco, ma ho dei dettagli. Perfetto, è ricomparso improvvisamente il gabinetto chimico. Puzza pure come un gabinetto chimico, ma ho dei dettagli. No, respiro qua dentro. Oh, ok, ok. Mai più gente, mai più. Scusate un secondo, ma se vado abbastanza indietro si vede la struttura? Ah, sì, eccola lassù! Incredibile, ma vero. Quindi l'alieno è riuscito a schiantarsi, in parte, a una struttura dell'NBI. Ma ho dei dettagli. Zio, torniamoci a una casa che sono traumatizzato. Ah, casa dolce casa. Almeno qui nessun alieno dovrebbe provare a ficcarmi cose nel retto, ma ho dei dettagli. Zio, tu scarica tutta la merce. Bravo, zio. La prima cosa che voglio recuperare, assolutamente, è la maniglia della cassaforte. Oh, finalmente la possiamo assemblare. Et voilà! Perfetto, oggetto assemblato. La posso vendere per miseri 420 dollari. Oh, ma dai, è l'unico oggetto realmente resistente venduto dall'amico. Perfetto. Perché non va lì? Dove la devo mettere? Forse va sopra uno di questi ripiani? Oh, ok, mi piace che la vendiamo storta. Così nessuno può vederla dal davanti. Vabbè, meglio che nulla, fatto atta che comunque abbiamo ben 4000 dollari. Ah, nel frattempo è l'alba di un altro meraviglioso giorno. Finché non vedi tuo zio e maledici la giornata, ma obbe dettagli. Allora, fatemi vedere se ci sono oggetti che dobbiamo lavare o riparare. Oh mio Dio, c'è un sacco di merce che abbiamo recuperato. Questo è poco, ma sicuro. Allora, la poltrona è piena zeppa di schifi. Mamma mia. Quelli dell'SBI probabilmente non si lavavano nemmeno dopo che erano usciti dal bagno. Qualcuno sembra che gli abbia rubato i saponi. Ma obbe dettagli, io non c'entro nulla, giuro. Ok, diamo quindi una bella ripulita. Vabbè che i nostri clienti non sono personcine, eh. Poi così esigenti, eh. Ok, ci sono voluti 4 minuti per ripulirlo completamente. Ma, uh, è bellissimo adesso. Perfetto, vediamo di metterlo in vendita nel negozio. Perché non si ha questa cavolo di porta. Dai, che ti devi aprire verso l'interno? Ma porco cane, buttalo qua. Ottimo. E c'era anche quel distributore che dobbiamo assolutamente vedere di riparare. Purtroppo lo possiamo vendere a soli 300 dollari. E tuttavia mi richiederà una marea di materie prime per essere completamente riparato. Ma tanto, come ho detto, siamo pieni zeppi di tutto. Ah, ancora un paio di martellate. E, ah, ora ci possiamo godere un ottimo caffettino. Aspetta che non mi cade adesso. Zio, porco cane, ti faccio bere io il caffettino che magari ti ripigli un attimo. Ah, non abbiamo spazio? Oh, ma dai. Ah, sì, sì, aspetta, lo possiamo mettere direttamente qua. Ok, il resto della merce. Vediamo un po' di piazzarla sui vari supporti. Oh, mio Dio. Qualcosa mi mette un'inquietudine. Qui non abbiamo nulla. E qua, nemmeno. Nel frattempo mi ha scritto l'amico e mi ha invitato alla guerra delle aste. Tuttavia dovremmo avere un sacco di denaro per poter partecipare. Signor alieno, buongiorno. Ho incontrato i suoi colleghi. Vuole comprare un'antica maschera della fertilità. Ah, basta che non si accoppia con lo zio Franco perché ne basta già uno. Non voglio che si riproduca quell'essere. Perfetto, sono riuscito ad aumentargli un pochettino il prezzo. Vada e si accoppi come non ci fossero domani. Nel frattempo una signora molto asiatica vuole comprare un tostapane. Ah, però non è disposta a contrattare. Senta, se lo porti via e tanti saluti. Abbiamo altra merce da mettere qua. Santo cielo, mi dico sempre che adesso abbiamo un sacco di ripiani su cui piazzare tutta la mercanzia. Ci siamo pieni zeppi di seghe circolari, santo cielo. Se qualcuno vuole ammazzare il coniuge è fatta. Molto bene, abbiamo trovato un tizio molto interessato al distributore. Oh, gliel'abbiamo già alzato parecchio il prezzo. Aspetta che se la paretta si muove anche troppo. Perfetto, ancora un piccolo, piccolo rialzo. Guarda come si muove piena la barretta. No, vabbè ragazzi, abbiamo fatto i big money. Gli abbiamo rialzato di 210 dollari. Cosa vuoi di più dalla vita? Lei signore vuole la cassaforte magari? No, il kit medico? Ah, quanto pare i suoi dipendenti si fanno sempre male? Eh, vabbè, cavolacci suoi. Ma è un po' tardi comprarlo adesso il kit medico, eh? Se già c'è scappato il morto. E lei si deve offendere? Si porti via quel boio di kit medico e tanti saluti. Abbiamo altro da piazzare qua? Ah, sì, l'aspirapolvere, perfetto. Questa signorina invece vuole comprare la maschera da guerriero. Uila, aveva un prezzo di partenza che era abbastanza alto. Vediamo se ricordo di aumentaglielo ancora. Perfetto, così può andare a fare le rapine in banca. È contenta, signora? Perfetto, prezzo alzato, poco una cifra. Lei invece vuole la casa olente. Oh mio Dio, quel quadro l'abbiamo trovato millenni fa. Non pensavo nemmeno che fosse ancora qui. Se lo porti via, guardi, anche se non me lo paga... Ok, l'ho pagato parecchio, l'ho pagato parecchio. Non mi lamento, tanti saluti a casa, eh? Oh mio Dio, signori, possiamo finalmente vendere quella maledetta monetina. Aspetta che non la cicco. Ho alzato il prezzo di 150 dollari, se ce la faccio. Oddio, quella barretta si muove troppo velocemente. Abbiamo alzato di altri 60 dollari, possiamo fare di peggio? Sì, perché lei è contenta. L'ho venduta a uno sproposito, costava 600. La vendiamo a 1020. 1020 dollari. Salve, signorina, lei vuole comprare la sedia. Guardi, gliela regalo perché sono contento. 17 dollari, per me sono più che sufficienti se la porti via. Mi libero di quel boia di schifo e l'ho sostituita invece con un tanicozzo che vale decisamente molto di più. Ma bando alle ciance, ho chiuso il negozio, vediamo quindi di partecipare alla suddetta Guerra delle Aste. Un caloroso benvenuto a Barn Finders. L'amico ha il piacere di invitarti al nostro evento speciale, la Guerra delle Aste. Sarà un'ottima occasione per mostrare di cosa sei capace. Ci vediamo lì, PS porta un sacco di soldi, un sacco. Tuttavia devo già spendere un centone per la benza. Zio, renditi utile la prossima volta. Invece che sniffartela e vertela alla benza, mettila dentro il serbatoio del furgone, porco cane. Oh mio Dio. E quella macchina non mi dire che è l'oggetto in palio se ci aggiudichiamo la Guerra delle Aste. Di sicuro la potremo vendere a un l'autopresso? Tutorial Guerra delle Aste. Qui potrai dimostrare la tua stoffa in una serie di piccole aste. Vince chi trova gli oggetti più preziosi nei magazzini. Il vincitore della Guerra delle Aste riceverà un premio speciale. La Grande Macchina non ha neanche un nome. Si chiama Grande Macchina. Scusi, signor ladro, si può allontanare dal mio veicolo? Le spiace? Ah, mi piace tanto la tua macchina, ma tanto, tanto. Ma davvero? Io ti tiro un'accettata sulle gengive se non ti allontani. Zio, non toccare la macchina, casomai rubala quando sono tutti distratti. Ah, starà benissimo sui nostri scaffali. È una macchina, zio, non la possiamo mettere sugli scaffali. Ma vabbè, dettagli. Questi sono ovviamente tutti i nostri concorrenti. Sono i tizi con cui abbiamo gareggiato di solito. Gente bastarda nel profondo che non si fa problemi a rialzarti il prezzo in modo tale da farti pagare decisamente molto di più. Mentre invece quando vengono a comprare nel tuo negozio sono dei tirchi assurdi. Ok, e quello è il premio. Avrò quella macchina. E questa è la prima guerra delle aste. Ottimo, se ho capito bene adesso diversi magazzini dovrebbero essere aperti. Non possiamo entrarci, possiamo tuttavia sbirciare dall'esterno e decidere se partecipare all'asta del suddetto magazzino. Se troviamo un merce di elevato valore e ci giudichiamo praticamente tutte le aste dovremmo riuscire a essere a posto. Ah, oddio. Ci sono diversi strumenti? Questo secondo me vale la pena. Allora, partecipiamo all'asta del magazzino ed incrociamo le dita. Questa asta parte da 500 dollari e mi sta anche laggando tantissimo il gioco. Non l'hanno rialzato più di tanto, per fortuna. Oh, abbiamo 7000 dollari. Avete già portato mille barboni. Ok, siamo alla fine, ho offerto 1100 dollari. Vediamo un po'. Ok, me lo sono aggiudicato. Maronne, quanto lag! Vi giuro, mi sta laggando tantissimo il gioco. Allora, diamo un'occhiata all'interno perché la maggior parte è spazzatura. Questa invece ce la possiamo portare a casa. Perfetto, anche qua abbiamo dei cavi. Da questi possiamo ricavare... Eh, guarda materie prime! Purtroppo, se notate bene a destra, mi si è buggata l'interfaccia perché sto gioco è fatto bene. Mi dice praticamente che per adesso sono primo io, avendo trovato merce per un valore di 230 dollari, mi sembra che sia. Ora siamo a 260. Vediamo di vendere anche questo, più quest'altro. Il casco di sicurezza. La amichita lì, come boia si chiamava. Anche questa dovrebbe valere parecchio. E per il resto abbiamo un cestino per il pranzo. Oh, questo mi pare che non l'avessimo ancora trovato. E il resto sono tutte materie prime, oggetti che possiamo vendere. Qui abbiamo anche la levigatrice. Oh, non male, non male. Ed in teoria non dobbiamo partecipare a tutte le aste, eh. Alcune ovviamente posso lasciarle stare se non sono convinto. Ma voglio dire, il denaro lo abbiamo, quindi... Ok, partecipiamo direttamente anche alla successiva. Perfetto, speriamo di non superare i 1000-1200 dollari, altrimenti avrò problemi con le aste successive. Oh, stavolta il gioco non lagami con solo. Il prezzo di partenza è di 400. Tuttavia i barboni lo hanno già rialzato a 650. Ok, siamo alla fine. Vediamo un po' se qualcuno offre di più. Aspettiamo che la barretta scenda. E all'ultimo, il Delon Gamers offre 100 dollari in più. Vi prego, non rialzatelo per fare i bastardi. È abbastanza ovvio che non ci sia merce di valore. Ok, 750, mi sembra un prezzo ragionevole. All'interno abbiamo trovato un vaso. Anzi, è l'urna della nonna della setta. Per il resto mi sa che c'è solo schifo. Abbiamo trovato un tavolo della serie meglio che nulla. Uh, guarda, guarda. La stufa, questa sì che vale parecchio di solito. La dovremmo solamente riparare, ma per il resto dovremmo essere a posto. E non mi sembra che ci sia molto altro, quindi mi accontento. Signore, le ho già detto che si deve allontanare dal mio furgone o questa gliela pianto? Oh mio Dio. Cos'è successo qua dentro? È un luogo abbastanza inquietante. Ai ai ai, questa volta abbiamo un prezzo di partenza decisamente maggiore. Ma dall'occhiata che ho dato non mi sembra che ci siano oggetti di grande valore. E dai, ragazzi, non partite subito con le offerte alte. Ma che bastardi che siete. Ho offerto 1.300 io sul finale, ma secondo me sono soldi buttati via. Voglio solo giudicarmi tutte le ase in modo tale che la macchina sia mia. Oh mio Dio. Guarda chi è ricomparso. Bucceri il campione. Perfetto, valeva 400 dollari. E buongiorno, a quanto pare ci sono un sacco di castori da queste parti. Ottimo. Oh mio Dio. Anche il gatto. Il gatto solare è ritornato quello brutto più brutto. Forse mi sbagliavo. È pieno zeppo di oggetti impagliati dovunque. È che il gatto solare valeva poco. Guarda, è tornato anche il lupo batti 5. Ma no. Mi stanno salendo i ricordi, stato cielo. Sì, ma sto luogo è stato lasciato un po' a se stesso praticamente. Teoricamente, mamma mia. La palestra. Per altri 200 e passa dollari. Ok, è andata decisamente meglio del previsto. E ho recuperato teoricamente tutta la merce all'interno. Da questa parte abbiamo trovato un luogo decisamente tropicale. Vedo un pirata sopra un baule. Aspetta, aspetta, aspetta. Partecipiamo assolutamente all'asta. Ho la vaga impressione che il prezzo di partenza potrebbe essere alto. No, 200 dollari. Vuol dire che all'interno non troveremo praticamente nulla di valore. Guarda che roba, nessuno è interessato ad acquistare questo magazzino. Guarda, offro proprio 50 dollari sul finale. Tanti saluti. Ho la vaga impressione che questo pirata, probabilmente, non aveva tanto bottino. Ok, diamo un'occhiata all'interno. Ok, abbiamo una cesta. Oh, abbiamo trovato il televisore dell'amico che invece ci possiamo portare via. È pieno zeppo di bauli. Qui invece abbiamo la macchinetta del caffè. Salve signore. Cosa contiene questo baule? Allora, come prima cosa lo dobbiamo aprire. E indovinate un po', all'interno non c'era praticamente nulla. Il pirata si è fatto seppellire con le lattine. Non sapevo che nel 1700, quando boia c'erano i pirati, ci fossero le lattine, ma vabbè, dettagli. Ok, aspetta che apriamo quest'altra cesta. Come ho detto, questo luogo sarà una grande truffa. E all'interno abbiamo il libro della mia vita con i maiali. Aspetta, aspetta, aspetta. Una collana di perle, invece. Saranno probabilmente finte, visto che si tratta di una collana micco. L'importante è che io riesca almeno a ridurre le perdite. No, non c'è niente. Niente la tristitudine. Hanno messo tante chest per ingannarti. Siete delle persone orribili. Ok, questa seratura è stata più complicata delle altre. Al momento comunque abbiamo guadagnato 3300 dollari. Ne ho spesi di più. Ma preferisco non pensarci. E niente, i pirati mi hanno truffato la grandissima. Bastardi. Perfetto, mi resta un ultimo magazzino. Ma mi sembra tutta roba da poracci. Vedo un bambolotto, qualche lanterna. Cos'è laggiù? Un altro televisore, probabilmente. Signori, il lato positivo è che all'occorrenza tutta questa merce la possiamo rivendere in negozio. E tanti saluti. Allora, la sta parte da 300. Non è tantissimo. E anche i bastardoni non sono molto convinti del contenuto del magazzino. Infatti il prezzo è rimasto basso. Io ho ancora 3700 dollari, quindi me la rischio. Vediamo di buttar su di un altro centone. E ci siamo giudicati tutto. Tutto, ma soprattutto abbiamo l'auto, gente. Guarda lo zio come contento. No, è solamente imbriaco, eh. Incredibile, ma vero? Aldelon Gamer ci ha giudicato tutte le aste. Letteralmente, seppellendo i suoi avversari. Allora, è tutta merce di scarso valore, come potete notare. Vediamo di vendere la lanterna. 64 dollari. Il bambolotto, 45. Il televisore, 200 dollari. Come ho detto, dai, che forse non è andata così male. È tornata la bambolina inquietante. È la mia vita tra i maiali. Che bello. Abbiamo uno pneumatico. Uila. Questo invece vale parecchio. 115 dollari. Forse questo è uno dei pochi magazzini che ci ha permesso di riprendere buona parte dei soldi spesi. Perfetto. Ho finito di svuotare tutti i magazzini. E come potete vedere, mi hanno letteralmente sbattuto fuori. Scusate. Ma tecnicamente i magazzini li ho pagati. Dovrebbero essere miei. Barboni. Come va? State rosicando perché ho vinto io il mega macchinone. Guardali. Ci sono goduti il rifresco e non mi hanno lasciato niente. Ma sarete bastardi. Ma che tristetta. Non mi ha lasciato neanche un panino. Guarda. Mi porto via le bibite e le patatine della serie. Meglio che nulla. E per il resto... Dove è lo zio? Zio! Dove poi è sparito? Prendi quella boia di auto e caricala. Andiamocene di qua che per oggi, giuro, ciccio, ti picchio male. Ma vabbè, dettagli. Per oggi è stata una giornata abbastanza traumatica. Ragazzi, allontanatevi dalla mia cavolo di auto. Cosa c'entri? Tu vai via. Tu mi stai sui marroni più degli altri. E se siamo fortunati, il trasporto della grande macchina al nostro negozio dovrebbe essere gratuito. Yeeey! Zio, scarica tutto il veicolo. Zio, porco di quelli per porca. Datti da fare, vecchio maletto. Ok, dovremmo avere una quantità spropositata di merce da vendere. Fatemi vedere l'auto. Perché l'auto non è stata messa in vendita? Dove... Dove è l'auto? Signori, non scherziamo. Allora, il gioco mi dice di andare a dormire. Datemi un secondo perché sono in partita da oltre un'ora e mezza. Quindi mi sale una leggierissima ansia. Ottimo, è l'alba di un nuovo giorno. Vediamo se devo tirare nuovi porchi. Oppure va tutto be... C'è qual quadra che non cosa. C'è decisamente qual quadra che non cosa. Zio, dov'è tutta la roba? Dov'è la macchina? Ovviamente non si trova all'interno del nostro magazzino. Anche perché non ci starebbe, voglio dire. Quindi dove... Crispio è finita. Oh, non mi dite che il gioco si è buggato. È qualcosa che devo scoprire nei prossimi episodi. Ma parca di quella suprema gigantesca megaporca. E volete ridere? Ho provato a rientrare nella mappa della Bidwars. E ovviamente non mi fa tornare indietro. Perché maimra è cavolo di gioia. Indovinate chi è il pirla che si è appena perso 800 dollari di macchina? Beh, sono io. Se non si fosse capito, sono io. Maronne, mi sta salendo una rabbia incommensurabile. Gente, facciamo finta di nulla. Quei soldi mi avrebbero fatto decisamente molto comodo. Come potete vedere, il The Long Game riesce a buggare praticamente qualunque cosa. Mi piace che questo gioco è stato programmato bene da gente che sa quello che sta facendo. Il lato positivo è che abbiamo recuperato una quantità spropositata di merce. Che se siamo fortunati dovremmo riuscire a vendere. Anche se non mi mette nulla sui ripiani. Grazie, molto gentile. Purtroppo è tutta merce di scarso valore. Ma vabbè, in qualche modo si combina. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace. Altrimenti finirete sulla luna con l'alieno. E noi ci vedremo in un prossimo video. Zio, non è che ti sei dimenticato di legare la macchina dietro al nostro pick-up, vero? Vecchio imbriaco è maletto. Ma sì, guarda, è andato fuori di testa. Lo zio è andato fuori di testa, gente. Ciao, ciao.